allora ragazzi oggi andiamo per il porto per l'odad di me e c'è una quadra che fa le cose un gioco con il figlio che c'è il mio zio un gioco con la testa come andiamo alla lavanderia ok mi niente c'è una palozza il giorno è tutto un gioco e allora a 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 e non c'è tanti livelli non è che vuoi che c'è? come non fai? non fai video che cacchio Grazie a tutti.